Ok, buonasera a tutti e grazie per essere qui stasera con noi, con i speaker di altissimo livello. Siamo live da YouTube, il canale YouTube di WhatsApp Economy, benvenuti anche a voi. La presentazione si considera in questo modo, ci sarà una piccola presentazione da parte di Serena e poi ci saranno tre ospiti d'eccezione, di seguito Guido Tabellini, Loreana Pellizzone e Eric Lonergan che ci parleranno di Banca Centrale Europea, Helicopter Money e di tante altre cose molto interessanti e poi ci sarà un dibattito dove poteranno partecipare sia i ragazzi di YouTube che quelli partecipanti su Zoom per poi concludere alle 7.55 le live su YouTube e i nostri ospiti ci lasceranno per poi poter presenziare, continuare a partecipare su Zoom con un dibattito interno tra Alessia, me e Serena con tutti gli altri partecipanti su Zoom. Su YouTube possono comunque partecipare su Zoom, vi manderò un link a breve. Serena, è tutto tuo. Inizio. Ok, allora, buonasera a tutti innanzitutto. e presenterei, diciamo, come sempre qualche parola su quello che è il progetto sullo European Series and Spank per chi non ha avuto modo di partecipare appunto agli scorsi webinar e quindi è un po' nuovo nel nostro progetto. E vi condivido le slide. Ok, quindi lo European Series and Spank è un progetto in pochissime parole di partecipazione civica quindi il nostro obiettivo principale è quello di dare la possibilità ai cittadini di 5 paesi della zona euro di partecipare ad un processo estremamente importante che sta avvenendo proprio in questo momento cioè la cosiddetta strategy review della Banca Centrale Europea ossia la revisione della strategia di politica monetaria appunto della BCE. In questo contesto sia la BCE stessa sia varie banche centrali nazionali hanno già organizzato negli ultimi mesi degli eventi, degli incontri con il mondo accademico, con i media e anche con la stessa società civile però noi abbiamo pensato comunque di dare la possibilità anche ai cittadini stessi di poter entrare in contatto con questa materia, con la realtà della Banca Centrale Europea e di poter esprimere la propria opinione al riguardo. Le organizzazioni che sono appunto dietro, che promuovono lo European Series and Spank sono diverse. c'è Positive Money Europe, che è una ONG con sede in Belgio, a Bruxelles che lavora proprio per far sì che la Banca Centrale Europea sostenga un'economia che sia più democratica, più giusta e più sostenibile. Insieme a noi poi collabora anche Participiz, che è un'altra organizzazione sempre con sede in Belgio che è invece esperta di democrazia partecipativa e poi, poiché come dicevo, lo European Series and Spank è un progetto multinazionale a livello nazionale, a livello italiano quindi, la nostra organizzazione partner è Fondazione Finanza Etica. Oltre all'Italia, il progetto è rivolto anche alla Francia, alla Spagna, alla Germania e ai Paesi Bassi. Il dibattito però si svolge, il progetto si svolge comunque nello stesso modo in ogni paese. Oltre ad essere un progetto di partecipazione civica, come vi dicevo, il nostro è anche un progetto di educazione finanziaria, quindi sulla piattaforma europeanserisandsbank.it potrete accedere a tutta una serie di materiali informativi, educativi, su Banca Centrale Europea, sul sistema delle banche centrali in generale. Quindi potrete poi anche partecipare ad incontri, a webinar interattivi come quello di oggi e rivolgere le vostre domande, i vostri dubbi agli esperti. E con tutti questi strumenti avrete quindi la possibilità di partecipare al dibattito per discutere il ruolo della BCE nel sistema europeo e sulla piattaforma, quindi la nostra piattaforma è stata costruita proprio per essere il più interattiva possibile, potrete interagire con i contenuti di cui vi parlavo qualche istante fa, potrete interagire anche con gli stessi altri partecipanti e soprattutto, cosa che vi invitiamo assolutamente a fare fin da oggi, potrete aggiungere le vostre idee, le vostre proposte, tant'è vero che sulla piattaforma ci sarà appunto nella pagina dedicata al dibattito italiano, potete trovare una sezione interamente dedicata alle proposte e lì troverete sia delle proposte aggiunte appunto dal team di European Serious and Spank, ma potrete anche contribuire a aggiungere le vostre stesse proposte, che poi arriveranno a quello che sarà lo step finale dello European Serious and Spank, ovvero un evento di deliberazione, anch'esso vista la pandemia online, però si tratterà di un'assemblea durante la quale un gruppo di partecipanti, nel caso italiano ovviamente un gruppo di partecipanti italiani, avrà la possibilità di appunto di riunirsi con altri cittadini e con dei facilitatori professionisti per elaborare delle raccomandazioni finali da rivolgere alla Banca Centrale Europea. Nel caso italiano questo evento si terrà in due parti, il 25 e il 26 giugno, e quindi praticamente si lavorerà appunto come dicevo con dei facilitatori, lì si rivedranno alcuni dei contenuti centrali di dibattito che si aggiungeranno alla piattaforma durante le varie settimane e dall'assemblea usciranno delle raccomandazioni finali che miriamo a consolidare e a presentare alla Banca Centrale Europea prima della fine della strategia di questo processo di cui vi parlavo all'inizio. Come si può quindi prendere parte a questo evento di deliberazione finale? Ovviamente bisogna innanzitutto accedere alla piattaforma, di nuovo europeansreasonsbank.it per accedere direttamente al sito in lingua italiana. Poi appunto nella sezione dedicata al dibattito per il nostro paese ci sarà anche una sezione dedicata all'assemblea nello specifico dalla quale potrete accedere ad un form, vi faremo una serie di domande di tipo demografico per il semplice motivo che miriamo a far sì che a questo ultimo evento di deliberazione partecipi un gruppo che sia il più eterogeneo possibile di partecipanti. E quindi qualora foste selezionati per prendere parte all'assemblea finale potrete parteciparvi, come dicevo, la sera di venerdì 25 giugno e la mattina di sabato 26. Queste sono un po' appunto le informazioni principali riguardo il nostro progetto. Ovviamente se avete delle domande abbiamo un indirizzo email che trovate sulla piattaforma, sul nostro sito. Abbiamo anche una pagina Facebook e Twitter quindi vi invitiamo assolutamente a seguirci, a contattarci. vi risponderemo direttamente sia io che Alessia per ogni domanda. E adesso passerei la parola a Giorgio che modererà un po' il dibattito di oggi e quindi ci presenterà innanzitutto gli ospiti che ringrazio di nuovo. Grazie a te Serena. Direi di iniziare subito il dibattito iniziando da Guido Tabellini. presento molto brevemente il professor Tabellini è appunto un professore di economia politica all'Università Bocconi dal 1994 ha insegnato anche alle Università di Stanford e UCLA è stato anche rettore della Bocconi dal 2008 fino al 2012 ha ovviamente una carriera accademica molto lunga e sicuramente di rilievo e oggi ci parlerà anche lui di Banca Gentile Europea e politica monetaria quindi lascio a lei professore la parola per il suo intervento. Grazie, buongiorno a tutti complimenti per aver organizzato questo evento grazie per avermi invitato. Allora vorrei organizzare la mia breve introduzione intorno a qualche domanda. la prima domanda che è stata posta dagli organizzatori è come può la Banca Centrale aiutare i cittadini europei? Quali sono le priorità? Come può aiutarli? Rispondo a questa domanda innanzitutto con una premessa normalmente la politica monetaria opera riducendo il costo del credito oggi o alzandolo se deve adottare una politica restrittiva oggi il costo del credito è praticamente a zero e quindi è difficile per la politica monetaria anzi impossibile operare con questo strumento tradizionale e quindi in queste circostanze è risaputo che la politica monetaria può fare molto poco mentre lo strumento principe di politica economica è la politica fiscale cosa può fare in queste circostanze particolari dunque la Banca Centrale Europea? Sostanzialmente agevolare l'efficacia della politica fiscale è la risposta che io darei e concretamente questo vuol dire finanziare gli interventi di politica fiscale acquistando debito pubblico per evitare che l'aumento del disavanzo e del debito faccia salire i tassi di interesse sul debito questo naturalmente è particolarmente importante per un paese molto indebitato come il nostro ora questo è quello che la Banca Centrale Europea sta facendo in queste circostanze particolari di Covid e ad esempio quasi tutto l'incremento di disavanzo che c'è stato nel corso del 2020 è stato finanziato dai maggiori acquisti della Banca d'Italia che operava per conto della Banca Centrale Europea nel corso di quest'anno continueranno a esserci questi acquisti il maggior disavanzo non sarà necessariamente tutto finanziato dalla BCE però sicuramente la politica monetaria sta facendo tutto quello che è concepibile che faccia in queste circostanze particolari la seconda domanda che è stata sollevata dagli organizzatori è c'è qualche cosa di più che potrebbe fare la Banca Centrale in queste circostanze per esempio trasferire direttamente risorse ai cittadini o alle imprese e quindi senza passare attraverso la politica fiscale io credo che la risposta a questa domanda sia negativa negativa innanzitutto per problemi legali e istituzionali la Banca Centrale Europea forse può trasferire a fondo perduto delle risorse al sistema bancario magari, non lo so o con prestiti a lunga lunga scadenza con l'understanding che poi queste risorse potrebbero essere trasmesse ai cittadini c'è qualche economista che ha proposto questo tipo di interventi in circostanze eccezionali però saremo veramente ai limiti o oltre il limite delle cose che la Banca Centrale Europea sarebbe autorizzata a fare dal punto di vista legale e istituzionale ma anche se non ci fossero questi problemi legali o istituzionali c'è una domanda fondamentale a quali cittadini dare queste risorse e a quali imprese uno può rispondere le si dà a tutti in maniera uguale però naturalmente questo avvanteggerebbe le persone che non necessariamente hanno bisogno più abbienti si potrebbe immaginare che la Banca Centrale Europea dia queste risorse in proporzione al reddito o alla ricchezza ma capite che nel momento in cui ci si pongono queste domande si prospettano delle risposte si stanno prendendo delle decisioni politiche che una Banca Centrale Indipendente un organo tecnico non è legittimato assolutamente a fare non è legittimato a farlo all'interno di un paese se fosse la Banca d'Italia che decide come erogare delle risorse ai cittadini italiani immaginate a forziori nel caso di una Banca Centrale che opera per conto di un gran numero di paesi sovrani è chiaro che non c'è la legittimità politica al di là dei problemi legali per rispondere a questi interrogativi quindi in queste circostanze se vogliamo mettere dei soldi in tasca ai cittadini europei dobbiamo farlo attraverso una politica fiscale europea quindi dovremmo chiedere cosa che molti chiedono che l'Unione Europea o i paesi dell'euro si dotino di strumenti di politica fiscale comune che possano servire come assicurazione contro la disoccupazione in parte questo anche che sta già avvenendo che possano dare a un'autorità fiscale degli strumenti di tassazione con cui finanziarsi quindi lo strumento principe non è la politica monetaria è la politica fiscale e dovremmo chiedere che questi strumenti di politica fiscale vengano potenziati a livello europeo ma la politica monetaria credo che debba continuare a fare il suo compito di coordinarsi con la politica fiscale sarebbe più facile che questo avvenisse se ci fosse una politica fiscale europea ma sostanzialmente la Banca Centrale Europea sta già finanziando la politica fiscale degli stati membri in queste circostanze eccezionali detto questo rimangono dei problemi importanti sul futuro non sul presente io non credo che sul presente si possa chiedere alla Banca Centrale Europea di fare di più o diversamente di quanto sta facendo il problema futuro è quando smettere di assistere gli stati con l'acquisto di debito pubblico quando interrompere quindi gli acquisti di debito pubblico o di titoli in generale e quanti rischi correre sul fronte dell'inflazione naturalmente il mandato della Banca Centrale Europea è molto sbilanciato è sbilanciato nel senso che riguarda esclusivamente l'obiettivo della stabilità dei prezzi gli altri obiettivi sono ancillari e sussidiari ed è stato interpretato in maniera abbastanza rigida finora dalla Banca Centrale Europea quindi le cose su cui stare attenti su cui chiedere cambiamenti riguardano la possibilità di continuare un po' più a lungo di quello che magari avrebbe fatto la Banca Centrale Europea in passato una politica monetaria espansiva e di acquisto di titoli di Stato consapevoli che questo comporterebbe però dei rischi di aumento dell'inflazione su questo fronte la strategia il dibattito che è in corso all'interno della Banca Centrale Europea sulla se e come rivedere la strategia di politica monetaria è particolarmente importante perché ci sono due punti che meritano attenzione il primo cercare di ampliare gli obiettivi macroeconomici nella misura in cui questo è possibile al di fuori dell'inflazione per fare sì che la politica monetaria sia anche un sostegno all'economia e non solo un baluardo contro l'inflazione la seconda aspetto riguarda il modo in cui è definito l'obiettivo di inflazione adesso è definito anche quello in maniera un po' asimmetrica nel senso che implicitamente o esplicitamente il 2% non è tanto un obiettivo simmetrico ma un tetto da cercare di non superare quindi bisogna che questo obiettivo sia più simmetrico e magari bisogna anche pensare alla possibilità di alzarlo in questa fase particolare delicata in cui viviamo gli Stati Uniti come forse sapete recentemente hanno adottato un obiettivo di inflazione media che consente alla Banca Centrale Europea di sforare in alto l'inflazione oggi sulla base del presupposto che in passato si è esforato in basso l'obiettivo di inflazione siccome in passato per lungo tempo l'inflazione è stata sotto il 2% se l'obiettivo di inflazione è una media del 2% adesso per raggiungere quella media dovremmo tollerare un periodo di inflazione più alto del 2% per un po' questo dà più spazio a una politica monetaria espansiva per un periodo più lungo questo potrebbe essere un suggerimento da dare alla Banca Centrale Europea che alcuni hanno già dato ci sono due problemi nel suggerire questo il primo è che l'inflazione è difficile da controllare la Banca Centrale Europea vorrebbe che fosse più alta e non riesce ad alzarla quindi in un certo senso non è detto che sia poi una politica così efficace quella di dire cambiamo l'obiettivo il secondo problema più importante è che si rischia nel fare questo di destabilizzare le aspettative di inflazione perché avere un obiettivo medio sull'inflazione media vuol dire essere disposti a tollerare poi un'inflazione più bassa del 2% a lungo dopo un periodo in cui l'inflazione è stata sopra il 2% non è detto che ci sia la credibilità per riuscire davvero a fare questo quindi ci sono dei dubbi nel se sia davvero desiderabile o meno questo tipo di cambiamento negli obiettivi della Banca Centrale Europea io tutto sommato penso che sia desiderabile perché a seguito delle circostanze eccezionali che abbiamo ci farebbe bene avere un po' d'inflazione sopra il 2% il rischio naturalmente è quello di perdere il controllo delle aspettative concretamente e chiudo per dare poi spazio a dibattiti su queste questioni io penso che la politica attuale la politica monetaria attuale della Banca Centrale Europea di acquisto di ditori di Stato continuerà per tutto l'anno in corso e continuerà anche per il 2022 e poi si tratta di capire quanto in fretta verrà interrotta probabilmente a fine 2002 inizio 2003 quello sarà il momento più delicato per il nostro paese sarà fondamentale riuscire ad arrivare in quelle circostanze in cui i tassi di interesse molto lentamente cominceranno a risalire il sostegno della politica monetaria si allenterà sarà fondamentale arrivare in quelle circostanze con una crescita sostenuta ma questo dipende da noi non dipende dalla Banca Centrale Europea dipende dalle capacità nostre di riformare l'economia come sappiamo che va riformata mi fermerei mi fermerei qui grazie mille professor Tabellini direi che poi sicuramente sono stati degli spunti molto interessanti che andremo a dibattere alla conclusione dei tre interventi e altri spunti ce li potrebbe dare sicuramente la professoressa Pelizzon che è economista professore ordinario presso la università Ca' Foscari a tempo definito inoltre ha numerose occupazioni per continuare anche a livello europeo per la vigilanza sull'unione bancaria sulla valuta digitale della tecnologia blockchain ma non andrei oltre e lascerei spazio alla professoressa per discutere ulteriori spunti riguardo la politica monetaria della BCE soprattutto in tempi di crisi prego all'audio spento professoressa grazie per l'invito e eh sì anch'io in qualche modo ho preso spunto dalla dalle domande che avete posto e in realtà vado più su aspetti tecnici mi 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 collego a quanto detto dal professor Tabellini e eh sottolino il fatto appunto che questa crisi la crisi del covid che è iniziata appunto l'anno scorso in realtà ci ha trovato in una situazione un po' particolare per quanto riguarda i tassi e interesse ecco perché eh già all'inizio a fine febbraio primi di marzo l'importante era che effettivamente l'Europa trovasse un accordo per non fare riferimento solo alla banca centrale ma anche che ci fosse in qualche modo un intervento dal punto di vista fiscale e a riguardo appunto con dei colleghi eh ci siamo preoccupati di rendere noto questo questo aspetto infatti il primo documento che avevamo appunto prodotto è dei marzo duemilaventi e la cosa interessante è che il gruppo con cui mi sono trovata appunto a discutere faceva parte sia dei paesi diciamo così eh frugali quindi eh Olanda e Germania e poi appunto eh eravamo io e la professoressa Carletti eh che facciamo parte in qualche modo del del gruppo dei paesi eh chiamati appunto peripheral in cui si andava a sottolineare esattamente il fatto che la banca centrale poteva fare qualcosa ma non tutto e eh a riguardo in realtà eh come la banca centrale in realtà interviene sul eh sui diversi mercati eh so che avete già fatto altri incontri però in realtà è importante che abbiate in mente quattro diversi interventi il primo lo fa acquistando direttamente che è appunto con il quantity vising oppure accettando come collaterali titoli pubblici e dando eh in cambio eh denaro che eh appunto stampa oppure acquistando accettando come collaterali titoli obbligazionali delle imprese quindi in realtà la banca centrale non accetta solo titoli emessi dallo Stato ma accetta anche titoli emessi dalle imprese quindi se vogliete c'è già un canale diretto con cui la banca centrale aiuta direttamente le aziende eh in questo caso solo quelle grandi oppure prestando denaro alle banche accettando come collaterali i prestiti che le banche forniscono appunto imprese e famiglie oppure altri collaterali quindi quello che ci tengo a sottolineare non è che la banca centrale stampa i soldi e li dà eh diciamo così alle banche ma lo dà sempre in cambio di un qualcos'altro cioè in cambio di un collaterale anche quando compra e quindi compra titoli di Stato in realtà immette sul sistema liquidità ma lo fa appunto incamerando questi pezzi di carta che sono comunque appunto dei titoli eh obbligazionari l'altro obiettivo l'altro modo con cui la banca centrale appunto eh contribuisce e aiuta i cittadini e le aziende è perché mantiene appunto la stabilità finanziaria in che modo come prestatore di ultima istanza oppure market maker di ultima istanza questo è un aspetto che forse non è stato eh toccato ma eh in realtà appunto sapere che ci può essere sempre qualcuno che può intervenire nel caso in cui ci sia qualcosa che eh non funzioni in maniera eclatante fa sì che il trovarsi in questo in questa situazione eh non avvenga in maniera eh molto diciamo così frequente tipo quella di eh la corsa agli sportelli perché appunto in qualche modo eh le banche possono fare riferimento alla banca centrale per appunto avere liquidità ma per farvi toccare con mano quanto importante sia il fatto che la banca centrale dichiari o abbia dichiarato e poi si sia effettivamente impegnata ad acquistare titoli pubblici vediamo che cosa è successo quando all'inizio della pandemia la banca centrale non aveva questa intenzione qui vi sto mostrando un grafico che sono i tassi in qualche modo non vi sto a spiegare che cosa sono il mercato dei ripo ma sono i tassi con cui in realtà eh il mercato accetta se vogliamo eh titoli di Stato italiani qui è la linea blu piuttosto che titoli di Stato di Stato tedeschi o francesi allora vedete che per accettare i titoli di Stato italiani quando dopo dopo il lockdown in qualche modo eh che c'è stato a fine febbraio in Italia e dopo di che quando c'è stato il primo diciamo così eh 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 Governing Council della della BCE in cui eh era uscito anche l'alagard dicendo non siamo qui per lo spread quindi non siamo qui per aiutare i paesi che in qualche modo hanno difficoltà a finanziare il loro debito come vedete per riuscire a convincere qualcuno a a in qualche modo a prendersi i nostri titoli i tassi in questo caso hanno avuto un aumento e invece c'è stata una sorta di corsa verso la qualità e quindi addirittura bisognava eh accettare dei tassi ancora più bassi pur di in qualche modo eh riuscire ad avere qualcuno che vi prestasse eh dei titoli di Stato francesi o tedeschi non appena c'è stata appunto invece la eh l'annuncio sul mercato che ci sarebbe stato il pandemic emergency purchase program e quindi la BCE avrebbe aiutato gli stati con l'acquisto appunto di titoli di Stato avete visto che direttamente il questo picco che abbiamo osservato sui titoli di Stato italiani si è ridotto e l'altro diciamo così picco dall'altra parte si è ulteriormente si è ridotto anche questo se lo andiamo a vedere poi da un altro punto di vista cioè da quanto costava quanto era la differenza tra il prezzo a cui si accomprano i titoli di Stato italiani e quello a cui si vendono i titoli di Stato italiani quando appunto in quel momento la BCE sembrava dichiarare il fatto che non sarebbe intervenuta vedete che si è avuto un incremento di questa differenziale di prezzo di circa un per cento che è un ammontare enorme se considerate l'ammontare di titoli che vengono scambiati ogni giorno sul mercato stiamo parlando di 20 miliardi di titoli al giorno non appena c'è stato invece l'annuncio dell'intervento per quanto riguarda appunto il pandemic emergency purchase program questo bid spread è tornato in linea con quello con cui in qualche modo si vanno a comprare i titoli di Stato tedeschi o francesi quindi la banca centrale come è stato sottolineato può aiutare i cittadini con il affronte dell'emergenza covid proprio perché sta aiutando gli stati quindi sta aiutando nella politica fiscale gli sta aiutando nell'emettere debito a dei tassi molto più bassi li sta aumentando aiutando perché in qualche modo il mercato secondario di questi titoli di Stato è molto liquido quindi non solo la banca centrale compra questi titoli ma fa sì anche che ci siano altri investitori sul mercato che li vanno a comprare con in qualche modo un certo livello di liquidità su questi mercati quindi questo punto sottolinea il fatto che la banca centrale aiuta i cittadini perché sta aiutando gli stati sta aiutando i cittadini anche perché sta aiutando le imprese comprando direttamente titoli obbligazionali di queste imprese e ovviamente continuerà ad aiutare i cittadini e le imprese se in futuro appunto riuscirà in qualche modo a supportare l'economia fino a che sarà necessario condivido anch'io l'idea che comunque un livello di inflazione un po' più alto rispetto al 2% sarebbe appunto una cosa importante c'è il problema poi di in qualche modo andare a a non toccare troppo le aspettative ma e quindi rendere comunque l'inflazione gestibile sta di fatto che dato il grosso livello di indebitamento che i diversi stati stanno acquisendo ovviamente un certo livello di inflazione permetterebbe in qualche modo anche un rimborso di questo debito in maniera un po' più facile questi argomenti ovviamente non sono visti bene da tutti gli stati europei ma anche qui abbiamo ovviamente in Germania c'è già un grosso dibattito a riguardo anzi sono già preoccupati per il livello di debito che è stato raggiunto dallo stato tedesco quindi sarà necessario appunto che ci sia un dibattito anche da un punto di vista politico su questo aspetto perché appunto non è una decisione che può prendere la banca centrale europea da sola e questo appunto va a toccare il fatto che non si può pensare che la BCE sia un Deus Ex Machina che può risolvere tutti i problemi che abbiamo ha un mandato deve in qualche modo rispondere di questo mandato risponde appunto all'Unione Europea e quindi non è un'istituzione che può semplicemente stampare denaro e darlo al primo che gli va a bussare alla porta questa è una cosa appunto che è da evitare anche come messaggio che si vuole dare ai cittadini non è pensabile che semplicemente stampando denaro risolveremo tutti i problemi che abbiamo sia in Italia che in Europa e mi fermo qui grazie mille professoressa Pelizzon ulteriori spunti per poi il dibattito successivo andrei subito con la presentazione del del dottor Lonergan lo presento molto brevemente anche qui è un macro hedge fund manager economista e scrittore è ideorealista anche del financial time ed economist e fornisce anche consulenza governi e politici in questo senso si presenterà le proprie idee per quanto riguarda la politica monetaria della Banca Centrale Europea soprattutto in questi ultimi tempi di pandemia a lei professor Lonergan grazie Giorgio prima di tutto voglio dire grazie a Positive Money e a Alessia ok io voglio delineare le differenze tra quantitative easing il programma Teltro che la PC utilizza già e l'idea che voglio discutere che è di trasferire il denaro direttamente alle persone ai cittadini cioè dopo aver studiato l'economia giapponese ho scritto su Helicopter Money per la prima volta nel 2002 nel Financial Tons e allora è ancora possibile che venga realizzato entro vent'anni il quantitative easing è la maggior parte dello stimolo che fa la banca centrale nel nostro libro Angrinomics l'abbiamo descritto come allagare la casa per riempire una padella in che senso la banca centrale ha acquistato trilioni di euro di titoli finanziari senza grandi effetti sull'economia reale il QE non cambia il reddito dei cittadini o le imprese cambia prezzi dei titoli al di fuori della crisi l'effetto del QE su prezzi dei titoli è anche marginale se confrontiamo i paesi che non stanno facendo il QE non possiamo vedere una differenza significativa nei prezzi dei titoli questo punto di vista non è del tutto corretto nel caso della zona euro perché è vero che comprare per esempio i BTP hanno almeno stabilizzato quel mercato e hanno evitato una nuova crisi del debito sovrano questo è vero ma questo non è sufficiente perché il mandato del banca centrale non è solo di evitare le crisi ma anche di stabilizzare l'economia e di mantenere l'inflazione vicino al 2% questo obiettivo non è stato raggiunto il programma Teltro ha molto più potenziale secondo me che il QE il Teltro funziona tramite un prestito dalla BCE alle banche ad un tasso negativo finora l'obiettivo del Teltro è di incoraggiare le banche a concedere più prestiti però come ha scritto recentemente l'Alessia un articolo eccezionale nel Sole 24 Ore potremo adattare questo programma in un modo molto molto più utile Positive Money hanno suggerito di creare un Green Teltro la BCE fornirebbe alle banche un tasso di rifinanziamento super negativo 2-3-4% a condizione che essi aumentino il portafoglio di prestiti Green entro il periodo della programma allora come si potrebbe trasferire il denaro direttamente ai cittadini è legale o crea l'inflazione il modo ottimale secondo me sarebbe di creare un nuovo Teltro in forma di un prestito perpetuo a tasso zero il Teltro perpetuo verrebbe messo a disposizione di ogni cittadino europeo in una quantità determinata dalla banca centrale al fine di raggiungere il suo obiettivo di inflazione il programma come tutti i programmi Teltro verrebbe amministrato dalle banche commerciali questo programma ha il vantaggio di sostenere direttamente l'economia reale allora voglio rispondere alla domanda se è legale i Teltro esistono già strutturare il trasferimento in questo modo risulterebbe come un'attività nel bilancio del BCE e quando le tasse sono negative come ora aumenta i profiti della BCE secondo la legge europea la BCE ha una flessibilità straordinaria oltre a un divieto molto chiaro di finanziare le attività fiscali degli stati membri c'è una domanda una domanda tecnica sulle perdite che la banca centrale può subire però comprando i titoli si corre sempre il rischio di perdere denaro infatti se chi ha successo la banca dovrebbe subire una perdita questione sull'inflazione l'idea di trasferire denaro alle famiglie crea sempre preoccupazione per i rischi di inflazione infatti se la BCE fosse in grado di raggiungere il suo obiettivo di inflazione non ce ne sarebbe bisogno dal punto di vista legale allora darebbe anche un aiuto invece voglio anche dire qualcosa sui preoccupazioni per questioni di distribuzione di cui ha parlato il professor Tavellini dobbiamo essere chiari quando il vice compra i titoli quando cambia le tasse quando fai teltro effetti sulla distribuzione delle risorse occorrono non è diverso è più chiaro ma non è diverso in conclusione questa innovazione monetaria avrebbe molti vantaggi crearebbe un livello di attività molto più stabile in tutta la zona euro fornendo un aiuto diretto alle famiglie tutti i cittadini della zona euro avrebbero accesso ai prestiti non esisterebbe un trattamento preferenziale del nord o del sud la BCE avrebbe più successo al proprio mandato sull'inflazione e forse la cosa più importante di tutti renderebbe il progetto europeo molto più popolare io concludo qui grazie grazie professor Lonergan quindi io inizierei Alessia se mi dà ok con la fase delle discussioni innanzitutto partirei dall'ultimo intervento del professor Lonergan perché da questi tre interventi abbiamo capito che se mi concedete delle banalizzazioni il professor Tabellini e la professoressa Pellizzon reputano che gli strumenti adottati dalla Banca Centrale Europea fino in questo momento siano stati più che sufficienti e che diciamo non reputano ulteriori misure anche molto più non convenzionali di quelle che sono state già adottate necessarie mentre l'Onergan ha proposto effettivamente delle nuove politiche come ad esempio il Green TLTRO e quindi seguendo continuando a seguire il ciclo degli interventi proporrei alla professora Tabellini di intervenire nel merito della proposta del professor Lonergan e di evidenziare criticità o opportunità della proposta insomma ma io credo che continuo a restare della mia opinione che quello di cui c'è bisogno è di strumenti di politica fiscale in questa circostanza possiamo chiedere alla Banca Centrale Europea di mettersi a fare la politica fiscale ma è più corretto istituzionalmente politicamente logicamente chiedere che sia la politica fiscale a svolgere la politica fiscale se non c'è una politica fiscale a livello europeo dobbiamo chiedere che venga creata una capacità fiscale a livello europeo capace di raggiungere direttamente i cittadini se invece diamo alla Banca Centrale degli strumenti con cui svolgere una politica fiscale rischiamo di delegittimarla non è più un obiettivo tecnico preciso e non è anche chiaro come poi questi prestiti vengano erogati dalle banche a chi vengono dati vengono dati a non montare fisso pro capite vengono dati a chiunque li chieda per fare che cosa magari per alimentare delle bolle speculative mettersi a comprare commodities o comprare azioni quindi se vogliamo mettere dei soldi in tasca a dei cittadini perché spendano questi soldi e questo è l'obiettivo lo strumento per farlo secondo me è la politica fiscale non è la politica monetaria la politica monetaria può e deve assistere questo sforzo di politica fiscale lo sta facendo negli Stati Uniti lo sta facendo in Europa è vero che in alcuni casi la politica fiscale e la politica monetaria di questo tipo ha effetti scarsi perché gli stati possono già avere una capacità di indebitarsi a tasso zero in questo caso la politica monetaria serve poco o niente in altri casi come nel nostro invece non è così e quindi la politica monetaria è fondamentale per consentire alla politica fiscale di espandersi però ripeto quello di cui stiamo parlando è uno strumento di politica fiscale penso che sarebbe sbagliato affidare a un organismo tecnico questo compito che spetta invece a un Parlamento grazie professor Tabellini poi ci sarà la replica da parte di Lonergan ma prima chiederei alla professoressa Pellizzon insomma di valutare la proposta del professor Lonergan per quanto riguarda i TLTRO green e una maggiore introduzione di politica monetaria da parte della BCE in questo senso sì per quanto riguarda il TLTRO in realtà appunto è uno strumento come è stato sottolineato è tra i quattro strumenti che ho sottolineato prima è quello in cui appunto si finanziano cioè la banca centrale dà dei finanziamenti alle banche in cambio di in qualche modo dei titoli a garanzia e questi titoli a garanzia possono essere per esempio appunto parte dei prestiti che le banche fanno però non lo fa su tutti i prestiti che le banche fanno in realtà gli unici prestiti che le banche in qualche modo possono usare come garanzia per avere dei finanziamenti della banca centrale sono quelli a basso rischio di credito quindi è vero il tema su le perdite che appunto la banca centrale può in qualche modo affrontare una parte di perdite ma non si può permettere ovviamente di finanziare qualsiasi persona che eventualmente va in banca e chiede un finanziamento a questo punto la banca non avrà più nessun incentivo a controllare il merito di credito di questa persona di cui chiede il finanziamento soprattutto se questo finanziamento è perpetuo e quindi non verrà mai in qualche modo rimborsato se è un finanziamento che non verrà mai rimborsato a tasso zero significa praticamente che la banca non ha nessun incentivo a valutare come questa persona andrà a utilizzare questi soldi se lo farà per effettivamente in qualche modo far ripartire l'economia oppure lo farà semplicemente per speculare in borsa o altre cose quindi l'idea è che si devono in qualche modo si deve finanziare l'economia ma quella che in qualche modo ci permette di di fare in modo che tutti stiamo meglio e quindi appunto che usiamo al meglio le risorse che abbiamo può essere invece in qualche modo giustificabile il fatto che la banca centrale nell'implementare le proprie politiche vada in qualche modo ad aggiungere anche l'obiettivo green e su questo possiamo discutere appunto su come usare in realtà parte della politica monetaria per incentivare la transizione verso in qualche modo un'economia che sia più resistente ai cambiamenti climatici eccetera su questo punto l'argomento deve essere in qualche modo separato rispetto all'idea che andiamo a dare dei finanziamenti ai cittadini a tasso zero a tempo infinito quindi è praticamente un pranzo gratis non è un finanziamento non si capisce a questo punto perché servono le banche perché le banche in realtà filtrano la parte dei finanziamenti che la banca centrale immette sul sistema proprio perché utilizzano la loro capacità di valutare il marito di credito dei propri diciamo così debitori se questo marito di credito non lo dobbiamo più valutare perché comunque il prestito è all'infinito quindi non ha scadenza e non ha tassi di interesse e non si capisce quale sia il ruolo delle banche grazie mille professoressa Pellizzonno faccio un piccolissimo recap per quelli che ci stanno seguendo il professor Lonergan ha proposto un ulteriore intervento da parte della banca centrale europea con ulteriori misure che possono dare credito effettivamente direttamente ai cittadini il professor Guido Tabellina questa proposta essenzialmente mi perdonerete per la banalizzazione ha detto sostanzialmente che è il cavallo sbagliato sul cui puntare quindi non puntare su una politica monetaria bensì sulla politica fiscale per far arrivare i soldi ai cittadini mentre la professoressa Pellizzon ha sostanzialmente posto dei problemi di incentivi per il sistema bancario e fondamentalmente potrebbe essere ci potrebbero nascere un po' di problemi in questo senso lascio la parola al professor Lonergan per rispondere a queste a questi interventi grazie forse parlo un po' in italiano un po' in inglese vi chiedo scusa alcuni termini non so l'italiano e cioè prima di tutto farei una domanda io non capisco perché questa è la politica fiscale voglio sapere cos'è la politica fiscale e cos'è la politica monetaria perché secondo me questa è sicuramente monetaria non è fiscale perché non è fatto dallo Stato è fatto dal BCE creando i soldi le banche si utilizza solo per l'administrazione ma c'è tanta l'administrazione da fare è complicato è difficile perché bisogna sapere che sono veramente cittadini che ogni cittadino prende solo un perpetuo ma il fatto che non c'è rischio di credito è ideale perché è un trasferimento monetario che è la definizione è la definizione di monetary policy infatti è la definizione di monetary policy nella legge europea perché abbiamo questa distinzione tra fiscale e monetary quando si crea i soldi non si può dare i soldi allo Stato al Ministero di Finanza allora farei questa domanda perché questo è fiscale non è monetaria perché secondo me è quasi la definizione di monetary policy sì allora questi sono 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 tutti tutte le domande perché sì sì se vuole rispondere dal professor Tabellini come ha ricordato la professoressa Pelizzon la politica monetaria eroga dei prestiti cambia il costo dei prestiti chiede collaterali il cambio quindi è un intervento che toglie o immette liquidità nel sistema ma se parliamo di trasferimenti a fondo perduto questi fanno parte dello strumentario della politica fiscale non della politica monetaria dal punto di vista sostanziale sarebbe un trasferimento a fondo perduto dal punto di vista economico si vuole fare un trasferimento a fondo perduto per aumentare la capacità di spesa non la liquidità ma la capacità di spesa e il reddito dei cittadini e quindi stiamo parlando di interventi di politica fiscale aggiungo che anche dal punto di vista proprio politico e della realizzabilità di questi interventi io penso che sia desiderabile mettere più soldi in tasca ai cittadini europei penso che sia desiderabile in queste circostanze farlo a fronte di un finanziamento monetario non a fronte di un finanziamento con debito da parte degli stati o se fosse debito con un finanziamento di debito a lunghissima scadenza ma penso che sia più facile convincere gli altri paesi europei i policy makers l'opinione pubblica se questo viene visto come un potenziamento della capacità fiscale europea piuttosto che non trasformare la banca centrale europea in una politica in un'autorità fiscale implicita penso che sia più trasparente più legittimo e più facile da realizzare in questo momento dire abbiamo fatto la politica monetaria unica facciamo anche una dotiamoci anche di strumenti di politica fiscale per affrontare delle emergenze avendo fatto questo avendo creato una politica fiscale europea a questo punto è naturale in circostanze di emergenza immaginare che ci possano essere dei meccanismi di coordinamento tra politica monetaria e fiscale che consentano all'autorità fiscale europea di avere liquidità con cui poi trasferire risorse ai cittadini ma lo vedrei proprio come la creazione di strumenti di politica fiscale europea che poi possano anche avvalersi del coordinamento della politica monetaria grazie grazie professor tabellini se vuole rispondere l'onergan alla risposta che ha fatto il professor tabellini alla sua domanda e poi se ci dà anche una sua opinione riguardo alla criticità che ha esposto la professoressa Pellizzon riguardo alla sostenibilità del sistema bancario se effettivamente fosse possibile questo tier tier senza alcuna condizionalità da dover richiedere ai creditori ai debitori ai cittadini so i would say these are not legal or theoretical arguments so professor Pellizzon and professor tabellini are making arguments based on precedent precedente they're simply saying central banks have operated by buying securities and cutting interest rates therefore that's the definition of monetary policy but that's a tautology that's just saying that's what they do currently but before they did QE they didn't do QE before they had dual interest rates and teltrose they didn't do dual interest rates and teltrose so in other words if they do it's monetary policy on their definition right so if all I define monetary policy based purely on existing practice anything they do is monetary policy so if I find a central bank somewhere that's printed money and transferred to households it's fine it becomes la politica monetaria but that's not theoretically nor legally valid the theoretical argument about what is monetary policy is really clear in European law it's about base money creation which is why we have monetary dominance so as soon as I create base money in Europe at the moment they are making transfers so farei questa domanda perché è legale perché è monetaria fare i trasferimenti diretti dare i soldi in pratica alle banche ma non ai cittadini secondo me questo è assurdo come si può dire che uno fiscale l'altra monetaria no perché si usa le banche ma che c'entra non bisogna non è necessario usare le banche ma stanno fare i trasferimenti perché tasse negative sono trasferimenti tax interest rate on reserves is a transfer which is why historically we had zero interest rates on reserves so at the moment we are writing checks and paying banks if we have a positive interest rate in reserves if we have a negative interest rate in reserves we're taking money si professoressa polizzo traduco un secondo quello che ha detto in precedenza sostanzialmente il professore l'honer ha detto che secondo lui tutto ciò che è politica monetaria è quello che fa la banca centrale europea una volta che fa la banca centrale europea un'azione di questo tipo diventa politica monetaria correggetemi se ho il frainteso usando questo argomento avremmo detto che QE era non era monetaria prima che succedesse certo sullo stesso argomento prego no io vorrei un attimo sottolineare il fatto che non è che la banca centrale stampa i soldi e li dà alle banche senza nulla in cambio cioè quando stampa i soldi per darli alle banche in realtà si prende un collaterale potrete dirmi che è un pezzo di carta che non vale nulla però in realtà si prende un collaterale generalmente non un titolo che la banca stessa ha emesso ma è o un titolo di stato o un prestito che la banca ha fatto ad una persona una famiglia o ad un'impresa di cui prima ha valutato la capacità di essere in grado di rimborsare questi soldi quindi bisogna smetterla con questa idea che la banca centrale semplicemente stampa i soldi e li distribuisce solo a chi piace e gli sta simpatico tipo le banche perché in realtà quando fa questo lo fa sempre con dall'altra parte un collaterale quindi non va a dare diciamo così reddito alle famiglie o alle banche ma da liquidità e c'è questa differenza fondamentale di cui bisognerebbe appunto avere bene in mente i meccanismi perché perché non dà i soldi gratis non dà semplicemente dei pezzi di carta gratis sono tutti pezzi di carta qualcuno mi potrebbe dire tranquillamente dà dei pezzi di carta in campo di altri pezzi di carta perfetto ma al di là dei pezzi di carta questi hanno in qualche modo un valore se vogliamo legale l'uno il pezzo di carta che le banche danno alla banca centrale che in realtà darà il diritto poi di incassare altri soldi perché sono dei prestiti qualsiasi sia il pezzo di carta quello che dà come il titolo di stato o una in qualche modo un prestito dato alle imprese o alle famiglie e in cambio di questo dà dei soldi della liquidità e quindi dei soldi subito quindi o pensiamo che effettivamente le imprese vadano dalla banca centrale e gli diano un pezzo di carta che è un titolo di stato o un qualche altro diciamo così titolo di credito in cambio di questo ricevono liquidità è questo quello che stiamo pensando o semplicemente che queste persone si trovino sul conto corrente dei soldi in più ma se si trovano sul conto corrente dei soldi in più allora appunto stiamo aumentando la loro capacità di reddito non il fatto che abbiano più liquidità c'è una differenza sostanziale tra reddito e liquidità io ho liquidità perché ho dato in cambio un titolo che è che sarà liquido fra molto più tempo e in realtà adesso ho semplicemente il cash in cambio di questo titolo che ha dato alla banca centrale e lo ha fatto sia con il QI sia che dia dei prestiti alle banche quindi c'è una grossa differenza tra ricevere i soldi dalla banca centrale o avere dei soldi che semplicemente aumentano il mio conto corrente senza dare nulla in cambio concedo una piccola risposta dall'Onergan però poi di andare avanti perché ci sono gli spettatori che hanno anche altre domande quindi prego prego l'Onergan ma direi due cose quando si paga interest on reserves non c'è collateral allora quando l'interest rate on reserves è positivo è in trasferimento direttamente alle banche allora questo senza collateral ma anche quando si fa QE infatti è un trasferimento esiste cioè si sta comprando una cosa ma se il prezzo cambia è un trasferimento perché se io avevo il BTP prima che si compra il BG avevo un prezzo se il QE ha un effetto se ha un effetto è un trasferimento allora la BC sta facendo i trasferimenti ma in un modo in un modo incompetente perché molto meglio usando un poco 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 del bilancio con un effetto molto più diretto invece di usare trilioni per cambiare i prezzi dei titoli fare un trasferimento trasferimento piccoli enorme ma alla sistema finanziare ho visto da bellini prego prego una cosa veloce è chiaro che qualunque strumento intervento di politica monetaria generalmente ha anche delle implicazioni sul bilancio dello Stato sul reddito dei cittadini quindi ha degli effetti analoghi alla politica fiscale ma la divisione dei compiti che tradizionalmente le democrazie si sono date hanno delegato a delle persone che sono dei tecnici non hanno nessuna accountability politica presso i cittadini il compito di raggiungere degli obiettivi tecnici il controllo dell'inflazione il controllo della liquidità cercando di invece mantenere come prerogativa delle decisioni politiche le decisioni sulla distribuzione delle risorse tra cittadini io penso che questo principio vada rispettato e sia difficile dare alla politica monetaria uno strumento con cui mettere direttamente dei soldi in tasca ai cittadini perché questo fa nascere subito il problema a chi li do questi soldi e se è difficile che una banca centrale possa rispondere a questa domanda senza poi venire meno a quella che è la caratteristica fondante di questa istituzione la domanda su come distribuire le risorse ai cittadini tipicamente è una domanda che presuppone un controllo politico dei cittadini e per questo la chiamiamo politica fiscale poi è chiaro che anche la politica monetaria ha delle implicazioni sul reddito dei cittadini però usa degli strumenti che hanno principalmente una finalità di tipo diverso da quello redistributivo grazie professor Tabellini mi dovrete scusare relatori ma sarei io il primo a rimanere a dibattere su questi argomenti ma ci sono altri utenti che ci stanno seguendo che hanno delle curiosità e quindi ve le riporto proporrei comunque di mantenere il circolo iniziando da Tabellini ci chiede Massimo Alberti cosa ne pensate della modern monetary theory scusatemi una teoria suggestiva MMT vale anche per l'Europa cosa dite ad Alberto professor Tabellini il principio che in circostanze eccezionali la politica monetaria deve finanziare il più possibile gli interventi della politica fiscale è un principio sacrosanto tuttavia io penso che poi vorrei esattamente che qualcuno formulasse tutte le ipotesi della MMT ma spesso si pensa che questi tipo di interventi possano non avere effetti sull'inflazione io penso che questo sia sbagliato se noi usassimo di routine la politica monetaria la creazione di moneta per finanziare spesa pubblica o tagli di imposta a un certo punto perderemo il controllo dei prezzi quindi dietro la MMT c'è un'idea giusta ed è che quando i tassi di interesse sono a zero la politica monetaria non è più efficace è efficace solo la politica fiscale e il compito della politica monetaria deve essere quello di finanziare questa politica fiscale penso che la MMT sbagli a pensare che questo possa essere un modo per rinunciare poi a tener conto degli effetti sull'inflazione in certe circostanze una politica di finanziamento indiscriminato della politica fiscale da parte della BCE farebbe perdere il controllo dell'inflazione e questo è successo in tante situazioni storiche grazie mille professor Tabellini la parola alla professoressa Pellizzon sì no io non mi occupo di modern modern theory quindi diciamo così condivido comunque quanto è già stato detto dal professor Tabellini volevo solo aggiungere una cosa invece sul dibattito precedente sul fatto che la QI ovviamente ha cambiato i prezzi dei titoli di Stato e ha fatto sì che le banche che avevano questi titoli di Stato ci avessero guadagnato ma anche i cittadini che possedevano questi titoli di Stato ci hanno guadagnato quindi cerchiamo di dare un messaggio diciamo così completo non è che guadagnano solo le banche e non i cittadini quando in realtà vengono cambiati i prezzi dei titoli di Stato quindi c'è come è stato detto ovviamente un effetto diciamo così sui prezzi dovuto al fatto che si è implementato un certo tipo di politica monetaria che non ha non è che non abbia nessun effetto sui prezzi delle attività finanziarie però non è che ci guadagnino solo le banche grazie mille professoressa ha la parola all'onergan sì sono d'accordo ma questo in un certo senso è il punto che voglio fare che ci sono trasferimenti e c'è già un effetto sulla politica e per via di questo che al nord o chi fa il saving feels that if you have negative interest rates it's preferential to people who are borrowing so the point is that we have learnt with transparency that monetary policy is distributional effects and that is already a cause of the loss of legitimacy of the central bank so actually an equal distribution is a lot fairer there's no north south there's no saver borrower there's no banks versus citizens and I don't want to be anti-banks voglio solo dire una cosa sull'MMT l'MMT è illegale nell'Europa it's exactly what we're discussing in a way which is Europe has made legally binding a division of labour between monetary and fiscal policy which is why I think actually what I've described as monetary policy because it's legal in Europe and Europe is really clear but MMT unfortunately I think MMT has won the argument in America because we now effectively have fiscal policy almost inflation constrained that's where the debate has shifted very very quickly Professor Tabellini's point is absolutely correct about resource constraints and inflation as a constraint but I think the serious MMT people are fully aware of that but that can't happen in Europe because MMT effectively is saying monetary policy should finance fiscal policy until we hit our resource constraints in Europe we're not allowed to which is precisely why I hate to say it it's really important the bank the bank the European Central Bank has to do it on its own and it's been it's been failing and that's why I think we have a problem because we have fiscal rules thank you thank you Professor Lonergan I'm trying to again to resume for those who don't know the English essentially Professor Lonergan has affirmed that the MMT in Europe is illegal for the treaty but one of the objective that is that Lonergan is that the political monetization can give a greater redistribution to the citizens through their politics I would say before we have talked about inflation and of political monetization and of discussion of the objective of the BCE and in academic sometimes we talk of to introduce all of the index inflation also the stock market the price of price of the finance what do you think in this sense can this aggiunta have a greater description l'indice per quanto riguarda cosa sta succedendo all'economia o meno o può avere anche degli effetti indesiderati cerco sempre l'ordine è lo stesso quindi a lei professore Ottabelini dal punto di vista logico l'inflazione è l'aumento del costo dei beni di consumo quindi ci possono essere degli argomenti per includere nell'inflazione il costo delle abitazioni ma non certamente non quello delle azioni sarebbe diciamo misurare delle cose che non sono logicamente fanno parte dello stesso della stessa categoria ci sono degli argomenti per dire che forse in alcune circostanze però la politica monetaria non deve essere cieca a quello che succede ai prezzi delle azioni quindi non includere le azioni nell'inflazione ma eventualmente tenere conto anche degli effetti che la politica monetaria può avere sul prezzo delle azioni questo è un argomento dibattuto ci sono pro e contro ma sicuramente è una proposizione ragionevole quindi lei è favorevole a introdurre all'interno del monitoraggio della banca centrale europea anche cosa succede effettivamente nei mercati finanziari diciamo lo sta già facendo sicuramente qualunque banca centrale guarda squilibri che possono esserci sui mercati finanziari poi il problema di capire se la banca centrale deve reagire a un aumento molto forte slegato dai fondamentali nei prezzi delle azioni questo ci sono pro e contro una questione controversa ci sono argomenti a favore argomenti contro è difficile essere sicuri di aver identificato delle bolle speculative quindi è difficile per la politica monetaria essere sicuri di reagire a quello che succede nei prezzi delle azioni tuttavia è anche ragionevole pensare che certi comportamenti della politica monetaria possano creare instabilità finanziaria se creano un eccesso di speculazione sui mercati finanziari quindi penso che sia un argomento controverso e non c'è un consenso su questo dipende molto dalle circostanze credo grazie mille professoressa Bellizson cosa allora in realtà appunto il uno del soprattutto se facciamo riferimento al mercato azionario e quindi alle bolle in realtà c'è un legame o comunque c'è un uno dei potenziali canali con cui si hanno le bolle nel mercato azionario è dovuto al fatto che c'è un eccesso di credito cioè le banche in qualche modo o altre forme di credito nell'economia hanno favorito appunto un un grosso flusso di denaro verso appunto i mercati azionari e quindi infatti tutte le banche centrali una cosa che controllano è quanto sta crescendo il credito e quanto questo in qualche modo dà dei segnali di eccesso di crescita dei prezzi nel mercato azionario da qui ad andare a inserirli nell'indice di inflazione o comunque dare l'onere quindi alle banche centrali di controllare anche i movimenti dei prezzi dei mercati azionari vuol dire veramente che a questo punto non vogliamo più che i mercati funzionino e ci diano delle informazioni perché se andiamo a controllare qualsiasi cosa compreso appunto i prezzi delle attività finanziarie a questo punto i mercati ci si chiede che cosa possano servire perché uno dei ruoli che hanno appunto i mercati è quello di segnalare valore di determinate diciamo così attività se vengono in qualche modo controllati dalle banche centrali non svolgono più il loro ruolo perfetto grazie mille do la parola all'onergan per questo argomento ho poco da aggiungere quando parliamo dell'inflazione parliamo del costo della vita come ha spiegato il professore del tabellini sono cose diverse sì no certo sì mi sono devo scusare mi sono espresso male io però in questo caso per quanto riguarda la politica della banca centrale europea e il mercato azionario ed eventuali controlli interventi cosa da dire in questo senso ah it's possible the bank of japan has been buying the stock market there is a good argument which is that it reduces the cost of equity to firms but this goes back to the debate we've just had it's a clear transfer to the owner of the stock market in the same way that it wasn't just banks if I was an owner of BTPs in March or April last year in early March when Christine Lagarde said something stupid at a press conference and then the ECB comes in and buys them it's a transfer to me it's exactly the same with the stock market so I would say why not just transfer to all households the bank of japan is making a big profit on its shares but perfetto cerco cerco di tradurre anche qui praticamente se non ho capito male il punto è Alessia aiutami è un trasferimento uguale a chi già ha comprato il mercato ok ok quindi non c'è bisogno quindi praticamente secondo lei cioè ha un effetto perché per l'azienda perché ci sarà più investimento ci dovrebbe ci dovrebbe essere speriamo però è un trasferimento a chi ha già comprato il mercato molto meglio fare un trasferimento direttamente ai cittadini ok ok grazie mille avevo intuito scusi no no prego prego non si figuri è colpa mia Alessia vi ha indurato qualche altra domanda in questo senso c'è la domanda di Luca Colombo Luca Luca Colombo ok sì come mai la Fed guarda il core PCI e non il PCI per controllare il tasso di inflazione e giudicarli preoccupanti a chi è rivolta la domanda a tutti e tre se volete se volete rispondere o anche al professor Tabellini prego rispondete è risaputo che ci sono dei prezzi che sono più volatili di altri e che dipendono da cause più esterne alla domanda aggregata interna di un paese e quindi la ragione per guardare a core PCI anziché a headline PCI è avere un indice che è un po' meno volatile nel tempo e più legato strettamente alle condizioni di eccesso di domanda o mancanza di domanda interna piuttosto che non anche ciò che succede nei mercati internazionali nel petroli o a shocks esterni a cui la politica monetaria non è tenuta a reagire e tipicamente per esempio quando c'è uno shock al prezzo del petrolio questo fa salire i prezzi ma fa salire anche i costi delle imprese quindi è una situazione recessiva potenzialmente recessiva sarebbe sbagliato che la politica monetaria in quelle circostanze adottasse una politica più restrittiva perché è vero che stabilizza il livello dei prezzi ma destabilizzerebbe ulteriormente l'andamento dell'economia reale e quindi guardare a core inflation è un modo per indurre la politica monetaria a reagire soprattutto a indicatori che segnalano cosa sta capitando alla domanda aggregata in un paese mentre la headline inflation riflette di più l'andamento della domanda e dell'offerta e idealmente la politica monetaria siccome opera controllando la domanda non controllando soprattutto controllando la domanda dovrebbe reagire appunto al componente dell'inflazione stabile che è indotta dall'andamento della domanda o dalle aspettative di inflazione e quindi da questo punto di vista core inflation è un migliore indicatore rispetto a headline inflation grazie mille professore credo sia stato abbastanza esossito ma se gli altri vogliono aggiungere qualcosa prego vedo che dicono di no rivolgo alla professoressa Pellizzon invece una proposta da parte di Adua della costa riguardo i trasferimenti diretti ai cittadini la BCE potrebbe operare il trasferimento il governo scusatemi la BCE potrebbe operare il trasferimento ai cittadini e il governo potrebbe tassare questo denaro sulla base del reddito cosa ne pensa in questo senso non mi è del tutto chiaro appunto l'idea cioè in realtà quello che appunto noi stiamo dicendo è che il governo deve aiutare i cittadini non tassarli appunto probabilmente per creare una cosa una politica più uguale più redistributive quindi tassare magari le persone che non hanno bisogno di quel trasferimento e quindi sostanzialmente non creare i problemi che magari diceva tabellini in precedenza e quindi scegliere a chi dare i soldi e a chi dare no e quindi trasferire questa scelta di politica non dalla Banca Centrale Europea ma allo Stato che ha il compito di tassare le persone sì ma allora appunto non si capisce perché non possa essere lo Stato che direttamente decide quali sono le persone da aiutare e quelle no invece di prima dare i soldi a tutti perché e poi in qualche modo tassare quelli che li hanno ricevuti non dovrebbero riceverli mi sembra un modo un po' più inefficiente questo piuttosto che nel momento in cui riteniamo che lo Stato sia quello in grado di decidere chi sono i cittadini a cui che dovrebbero avere diritto di questi trasferimenti lo fa appunto lo Stato chiaro se volete aggiungere qualcos'altro Tabellini o Lonergan prego vedo vedo di no quindi una domanda da Luca Colombo che ci chiede sia l'America sia l'Europa vorrebbero svalutare la loro valuta per vari interessi quali esportazioni come mai Powell ha cominciato a parlare di tassi di interesse che potrebbero essere alzati già a fine 2021 non non credo che Powell abbia intenzione di alzare i tassi di interesse però non so se stia sbagliando io cosa cosa Lonergan se vuole provare a rispondere cioè Powell alzerà i tassi se c'è se c'è problema di inflazione secondo me non importa il bilancio o le esportazioni ma se c'è l'inflazione è possibile che si alzano in 2021 ma lo dubito ma è possibile se c'è qualcun altro se volete aggiungere qualcosa altrimenti vado avanti sembra di no io una curiosità per la professoressa Pellizson che ha parlato degli annunci della Lagarde e del suo effetto nei mercati finanziari per quanto riguarda soprattutto i titoli di Stato ecco una mia domanda ma in realtà tecnicamente l'annuncio della Lagarde era tecnicamente corretto cioè il compito della BCE non è quello di ridurre i tassi di interesse tra gli stati tra l'altro una dichiarazione se non uguale ma abbastanza simile l'ha fatta Draghi qualche anno prima del 2020 e quindi allora cosa avrebbe dovuto dire in quel senso cioè perché poi alla fine molti l'hanno criticata no per le dichiarazioni che ha fatto e poi hanno visto nella proposta del P&P qualche tempo dopo una un ritorno no un rimangersi le parole e quindi cosa cosa sarebbe cosa avrebbe dovuto fare in quel momento ma cioè il problema era che in realtà avrebbero dovuto già intervenire gli stati nell'andare a dire appunto c'è questa questo grosso problema abbiamo diciamo una pandemia e quindi è importante supportare il più possibile i cittadini il problema fondamentale era che non c'era ancora questa visione la parte politica in realtà ha impiegato due mesi per iniziare a dire bene allora dobbiamo intervenire aiutare appunto le famiglie e i cittadini e quindi anche se effettivamente il problema non poteva essere risolto dalla banca centrale la banca centrale doveva però in maniera temporanea in qualche modo cercare di aiutare per il possibile l'economia quindi è giusto il fatto che in realtà il problema venga affrontato in maniera seria dal punto di vista fiscale sta di fatto che la politica monetaria appunto non deve andare anzi rimare contro ma cercare almeno nel breve periodo di aiutare a far fronte alla situazione ho capito grazie mille grazie mille per la risposta io l'avevo non vedo si prego se hai qualcosa da aggiungere posso fare una domanda una cosa che non abbiamo discusso è il teatro e sarei molto interessato a sentire cosa pensa la professoressa Pellizzone e il professore Tabellini sull'idea del teatro specialmente se c'è un limite negativo alle tasse sul teatro questo mi sembra molto molto importante il fatto che le tasse del teatro hanno andato più negativo che le tasse su reserves che questo è stato un'innovazione importantissimo ma c'è un limite o potrebbero fare un teatro minus 3 minus 4 minus 5 Tabellini francamente non ho pensato a questa domanda non ho un'opinione se capisco bene la domanda è perché la banca centrale non paga le banche per prendere a prestito dalla banca centrale questa è la domanda il teatro che hanno annunciato a marzo ha le tasse che sono più basse che le tasse sulle riserve che questa è una novità perché usually lending to the banks is obviously is at a punitive for interest rate usually higher than the interest rate on reserves and this is the first time that the interest rate on the teltro is lower than reserves this is my point about a transfer to the bank allora so it's minus 75 basis point ma potrebbero fare minus 2 minus 3 ma è molto importante perché vuol dire che non esiste lower bound in Europa ma io di queste cose non sono un esperto sicuramente la professoressa Perizzone sa più di me però credo che ci sia evidenza empirica che se i tassi sulle riserve sono troppo negativi poi questo può essere controproducente perché riduce i profitti del sistema bancario e questo può ostacolare l'elargizione di credito anziché aiutarla e quindi credo che una parte del modo tecnico in cui è stato disegnato il T.A.R.O. è per minimizzare questi effetti negativi sul conto economico delle banche ma sono sicuro che la professoressa Perizzone di questo sa più di me sì allora appunto in Europa abbiamo già visto che lo zero lower bound non è a zero cosa che invece appunto negli Stati Uniti è così e allora quanto può essere negativo uno dei problemi è il fatto che comunque i depositi hanno ancora un tasso pari a zero cioè ci sono pochissime banche che hanno iniziato ad avere tassi negativi sui depositi quindi se anche la banca centrale ha fatto il tiring e quindi per quanto riguarda la parte di riserva obbligatoria l'ha portata allo zero anche se ci sono tassi negativi in realtà abbiamo che le banche nell'ultimo periodo si sono viste un flusso enorme di liquidità perché appunto se andiamo a vedere i conti correnti delle banche ci sono alcune banche che hanno deciso di non prendere proprio più depositi presso i loro bilanci e c'è questa idea che appunto i tassi sui depositi non possono essere negativi dall'altro lato però i tassi sulle riserve che non sono appunto quelli obbligatori sono negativi quindi le banche da questo punto di vista stanno perdendo non stanno guadagnando stanno perdendo con i soldi che vengono depositati presso le banche il fatto che appunto il nuovo TLT e RO abbia un tasso negativo più basso rispetto alle riserve è un modo per compensare il fatto che le banche hanno un sacco di depositi praticamente a tasso zero quanto potrà essere il livello negativo non credo ci siano studi a riguardo però appunto tutto dipende da quant'è la frizione quindi quanto vogliamo mantenere questa frizione sul mercato che fa sì che i depositi non abbiano tassi negativi però si potrebbe continuare di passare il tasso su TLT e non cambiare il tasso sui riserve sì sulle riserve sì ma il problema sono i tassi sui depositi delle banche capisco ma ma questo ma il TLT non cambia questo no però è un modo per compensare il fatto che stanno pagando dei tassi pari a zero quando i tassi sono negativi alla fine se capisco bene staremmo solo facendo un regalo alle banche se non costringiamo le banche a prestare questa liquidità limitarsi a pagare le barche perché prendano prestito tenendo fermo il tasso sulle riserve è un regalo che facciamo alle banche e non è ovvio che questo sia particolarmente desiderabile grazie mille a tutti purtroppo sono le 20 quindi dobbiamo dobbiamo chiudere io ringrazio gli ospiti che hanno dato il loro prezioso tempo a noi a tutti quelli che ci stanno seguendo sia su youtube che su zoom di nuovo purtroppo è finita qui ma sarei ore a parlare insieme a voi quindi vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato e vi dico anche a quelli che ci stanno seguendo che di rimanere nel post live in cui possiamo parlare insieme a me Alessia e Serena e confrontarci un po' sul progetto e sulla piattaforma di Positive Money Euro ringrazio ancora il professor Tabellina il professor Pellizzone il professor Lonergan e ci vediamo presto su youtube e spero ci saranno altre occasioni di dibattito con gli ospiti grazie mille grazie a voi buona serata buona serata grazie a voi grazie grazie ciao 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 grazie e scusa scusa per l'inglese e per l'italiano ho fatto il mio meglio certo a presto ciao ok con quelli di Masti innanzitutto grazie per essere di Masti pochi ma buoni allora quello che farei sarebbe semplicemente io il mio zoom è in inglese quindi andrei voi praticamente quello che dovete fare è alzare la vostra mano dovreste avere una funzione alza la mano per essere allowed to talk adesso faccio come lo speaker parlo un po' di inglese un po' di italiano comunque vi autorizzo a parlare Massimo Cristoforo Cristoforo magari sì ok Luca Luis Ezio Ignazio adesso potete Massimo e Cristoforo potete potete parlare adesso potete una sera sentite un po' distante un po' distante può essere sia il microfono che sia stupidino eh scusate un po' meglio adesso allora io fare così tutti all'out to talk semplicemente se non mi va insomma potete semplicemente rimanere con lo schermo spento intanto sì tu Massimo hai partecipato anche agli scorsi webinar eh sì l'altra volta sempre su youtube infatti anche adesso Giorgio mi chiama Alberto mi sono un po' offeso in effetti perché il cognome è Alberti Massimo oh no mi dispiace se posso spezzare una lancia succede anche a me mi chiamano Marco scusami scusami perdone Alberto però tra la concitazione davanti a me c'è un inferno tra seguire tutte le cose quindi mi dispiace beh immagino l'ansia e mi faccio le congratulazioni tutti te tre siete proprio bravi grazie 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 figurati grazie grazie mille a te eh sì allora se hai partecipato ad entrambi i webinar sì oggi peccato che ero impegnato e non ho potuto raggiungervi prima ma sì sì no infatti avevo fatto anche alcune domande ma alla fine il tempo era scarso e niente succede ho fatto i prossimi appuntamenti per caso uso sempre con queste tematiche qua quando è che sono perché vedo a sprazio ogni tanto le news dal canale di youtube di Giorgio allora vai no scusami sì sì il prossimo webinar di European Services Bank è il è l'8 giugno e sta volta il tema sarà sarà l'ambiente ah ok interessante sì sì sarà molto interessante c'è Irene Monasterolo dell'Università di Vienna forum finanza etica avremo si avremo uno speaker e poi avremo Daniela Finamore di Recommon quindi insomma si parlerà un attivino di come può la BC gestire il cambiamento climatico quindi sarà molto interessante beh visto che sono praticamente l'unico che sta parlando faccio una domanda no perché adesso non ho parlato del TL TRO che non ho mai sentito in vita mia io ho fatto ho studiato un po' all'università anch'io ho fatto anch'io economia del commercio e mi era piaciuto da morire macroeconomia e che mi parlava appunto soprattutto della 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 moneta e quanto quant'altro è uno degli argomenti che mi sono sempre piaciuti però TLTRO non l'ho mai sentito se potete dirmi più o meno che cosa è che stavo guardando anche qua nel sito ma vai magari tu sei più io sono dei prestiti che la banca centrale europea dà alle banche per incentivare queste ultime a erogare credito a imprese e famiglie sostanzialmente ne sono stati aperti vari sono sbaglio tre giusto o quattro tre tre sì ne sono stati aperti tre e hanno proprio questo questo obiettivo qui insomma di di dare dei prestiti speciali alle banche cioè le banche se aprono un 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 prestito nei confronti di imprese e famiglie allora possono direttamente prendere a prestito da questi da queste linee di finanziamento speciali una politica monetaria per facilitare il trasferimento dei soldi chiamiamolo così dalla banca centrale europea ai cittadini se vuoi aggiungere altro se posso aggiungere le tue cosine appunto adesso nello schema del TLTRO bisogna anche magari considerare il fatto che avendo tassi dei negativi in fin di conti potrebbero anche essere definite queste operazioni come dei sussidi tra virgolette per le banche visto appunto il tasso negativo che adesso la BC sta applicando e poi massimo consiglio in realtà di questa tematica ne abbiamo parlato al secondo webinar con il professor Marelli che ci ha dato proprio una visione molto chiara molto in semplici parole di quelli che sono tutti i vari strumenti di politica monetaria che la BC ha messo in atto fino ad ora e quindi potete trovare le registrazioni sul canale YouTube di Positive Money Europe in questo caso non so quello di Giorgio e quindi appunto ti invito a rivedere magari anche l'intervento del professor Marelli perché è stato veramente molto bravo molto interessante allora andrò a ripescarmelo grazie sì Marelli è stato fantastico comunque Enzio ci dice che è in auto in viaggio quindi non può parlare però aveva fatto una domanda interessante sulla liquidità che arriva insomma la liquidità che immette la BC nel mercato arriva direttamente all'economia reale ai cittadini era il perno attorno a cui ha girato l'intero dibattito alla fine nel senso che quello che ci chiediamo noi come post-it-moni insomma come tanti accademici che lavorano su helicopter-moni su proposte simili è proprio questo cioè le risorse arrivano direttamente all'economia reale oppure no helicopter-moni in teoria stimolerebbe la domanda quindi sì arriverebbe in maniera più diretta ai mercati però comunque come diceva Perizzone ovviamente esistono dei modi indiretti che gli strumenti di politica monetaria indiretta che comunque vanno a sostenere direttamente i cittadini alle aziende helicopter-moni sarebbe sarebbe ancora più diretta perché in parole povere è una somma di denaro che arriva direttamente sul tuo conto bancario sarebbe una sosta di reddito di cittadinanza però posso fare una domanda scusa vai Ezio puoi puoi fare la domanda devi semplicemente Ok sono in colonna adesso sono fermo in colonna grazie quello che intendevo dire è che io so che la BCE mette liquidità e se non erro va a finire alle banche retail alle banche diciamo locali che poi dovrebbero se non ho capito male dovrebbero finanziare le imprese cosa che invece da quello che mi risulta che faccio l'imprenditore immobiliare in realtà quando poi si chiedono i soldi vogliono le garanzie collaterali vogliono quindi alla fine devo usare i miei soldi spesso perché tanto se devo bloccare i miei soldi per avere crediti non sempre mi conviene a volte lo faccio ma non sempre mi conviene quindi il concetto di helicopter money lo conosco lo ho capito però in teoria appunto le banche retail non finanziano le imprese in modo molto come dire fluido nonostante la garanzia se esiste dell'ABC mi sono spiegato male forse però voi siete esperti ditemi voi per favore grazie ah Giorgio tu che ne pensi no penso che sia un'osservazione corretta il fatto che le banche comunque hanno prestano con una certa difficoltà ma perché sono state anche aumentate le regole proprio nel sistema bancario dopo la crisi del 2008 sono stati aumentati numerosi parametri da dover rispettare per quanto riguarda le banche ed è anche questo secondo me uno dei motivi per cui comunque nonostante ci sia cioè la banca non è che hai soldi e quindi te li dà cioè la banca te li dà se comunque rispetti dei requisiti per cui il progetto che la banca va a finanziare ti permette poi di ripagare il prestito è come se tu sei un miliardario ma ti chiede i soldi vorrei brutalizzarle un barbone ad esempio ovviamente non è così lo sto di nuovo brutalizzando però sì tu i soldi ce li hai però non è che li dai a lui perché poi alla fine non sai se te li restituisce non so se Alessia o Sereno no no è verissimo ma io ci mancherà del progetto di avere un senso di essere positivo di essere sostenibile però vi assicuro che nonostante anche le margini operativi interessanti alla fine l'imprenditore cioè deve comunque mettere il capitale perché se la banca mi finanzia io posso fare più progetti in contemporanea ma ovviamente devono essere la bontà del progetto deve essere avvallata approvata se no non lo faccio neanch'io per primo nel momento in cui mi bloccano ripeto mi chiedono i soldi a me va bene lo faccio però mi bloccano nella crescita ecco magari anche eventuali assunzioni eventuali non so collaboratori a progetto se non se non ho un supporto finanziario è complicato comunque è vero che la banca non è una mente di beneficenza questo sono d'accordo in ogni caso teniamo duro andiamo avanti grazie della vostra no ci manca ma vabbè adesso non voglio chiederti dimmi 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 no ma la banca ti ha dato delle motivazioni per cui non ti stai rogando credito non sono consulente non sono no tranquillo l'economia le contingenze la pandemia una volta l'altra volta poi alla fine riesco a ottenere però con una fatica e uno sforzo in mane e comunque mettendo delle 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 garanzie personali delle garanzie mie come 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 imprenditore e io non è che sono contrario a mettere garanzie però per me dovrebbe esistere una parte di credito alle imprese sulla fiducia non ecco non a tutti a tutti senza un minimo di criterio però un po' più di fiducia nell'aiutare l'imprenditore nel suo piano di crescita ecco però mi rendo conto che la banca non è un ente di beneficenza stringo i denti e vado avanti le motivazioni sono a questo momento la pandemia il mercato non è io vendo immobili progetto compro terreni progetto e vendo immobili i lavori in Svizzera però io però in Italia mi sembra che la stessa cosa ho dei colleghi in Italia che fanno il mio lavoro a sviluppo immobiliare e anche loro fanno fatica niente questa era un po' la la mia le mie considerazioni non so cosa pensate voi Alessi e Serena ma sì più o meno nel senso sono d'accordo più che altro avere il punto di vista di qualcuno che lavora direttamente nel settore immobiliario fa la differenza io vedo quello che succede dal punto di vista teorico dal punto di vista della PC ma poi quello che succede nella società civile quello quello che vive la gente immobiliare giustamente non ne sono tanto a contatto quindi onestamente sapevo in teoria quello che la realtà scusa mi sfugge nel frattempo la colonna qua si è smaltita anche quando vendo immobili a copie giovani che hanno purtroppo un lavoro non diciamo indeterminato ottenere un ipoteca un mutuo ipotecario a queste persone anche dal lato vendita quando devo poi ripeto portare risultati e far andare bene l'operazione non è evidente come diceva concludo come diceva adesso perdonami che sono in macchina Alessia giusto? Alessia sì sì ecco le prediche le parole sono una cosa infatti la vita reale è un'altra e qua vi congedo e vi ascolto mentre sono in viaggio grazie ancora grazie grazie a te grazie a te ci riaspettiamo per i prossimi webinar con le tue con le tue domande davvero interessanti purtroppo il link di zoom sta per per scadere quindi ringrazio i partecipanti ringrazio tantissimo Giorgio per aver moderato questo dibattito che è stato un dibattito accesissimo spero di aver fatto il mio meglio non ne sono sicuro ma hai fatto bravissimo ma poi ne parliamo poi ne parliamo no sei stato eccezionale perché questi erano tosti nel senso secondo webinar è stato è stato diverso rispetto a questo questo è stato è stato tostissimo da tutti i punti di vista da un po' me l'aspettavo perché l'argomento è abbastanza scottante helicopter money eccetera e quindi sì no vi ci rivediamo l'otto giugno se volete con un dibattito sull'ambiente sulla sulla sostenibilità bravo Giorgio sono assolutamente d'accordo Massimo e grazie grazie mille ci rivediamo ci rivediamo anche sulla piattaforma nel frattempo bravi tutti seguo Giorgio su suo canale youtube molto bravo grazie grazie buona serata buona serata grazie a tutti grazie buona serata ciao 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 ciao